oltre a essere un imprenditore del mondo della cosmetica sono un cittadino e soprattutto un padre ho dedicato il capitolo 6 del mio libro la cosmetica umanistica ai giovani ai giovani che dopo la terza media si affacciano al loro futuro professionale e che scelgono il futuro professionale della bellezza l'operatore professionale della bellezza del benessere qui c'è un cortocircuito all'interno della scuole medie perché la bellezza non viene valorizzata nella sua vera identità ma viene assolutamente sottostimata in un concetto di disvalore che assolutamente lontano dal valore economico dal valore sociale dal valore etico della bellezza viene considerata una scelta di serie b assolutamente erroneamente vengono spintaneamente indirizzati i ragazzi ritenuti meno talentuosi verso la scelta di un centro di formazione professionale soprattutto un centro di formazione professionale degli operatori della bellezza del benessere questo è uno scempio dell'anima e del corpo e della mente di questi ragazzi che si vedono giudicati e che da questo giudizio non riusciranno mai a liberarsene questo genera in loro insicurezze genera in loro sicuramente molta distonia rispetto a una carriera professionale prospera questo è stato dimostrato perché c'è poi una dispersione scolastica che tocca il 93 per cento del settore del centro di formazione della bellezza che quindi ricade negativamente sulla società e quindi deve essere assolutamente controvertito questo approccio costosissimo sia a livello psicologico sia a livello sociale sia a livello economico quindi in questo capitolo denuncio il capitolo numero 6 la barbarie con cui vengono disorientati i ragazzi e chiedo agli orientatori e ai ragazzi stessi una nuova consapevolezza una rinnovata coscienza e soprattutto una rinnovata analisi delle grandi opportunità che il mercato della bellezza offre ma che richiede d'altro canto di essere attentamente studiato attentamente approfondito e opportunamente valorizzato